Siamo dunque arrivati al terzo degli incontri d'autore organizzati da Danzarte, da Luisa Cuttini e con la mia presenza, che si terrà appunto l'11 maggio allo spazio Aref di Piazza della Loggia. Questo incontro è con un coreografo diciamo più conosciuto perché Roland Petit è sicuramente un personaggio che molti hanno sentito nominare, anche se magari non conoscono direttamente i suoi lavori, che sono molti e di carattere molto diverso. Roland Petit è scomparso lo scorso anno e ci è sembrato giusto in questa occasione fare un omaggio alla sua figura, ai tanti suoi lavori proposti nel corso dei decenni, quindi proiettando nella sede appunto dello spazio Aref alcuni spezzoni di filmati che testimoniano la ricchezza inventiva di questo grande coreografo francese. L'appuntamento è per l'11 maggio alle ore 21 allo spazio Aref vicino a Piazza della Loggia, è un bellissimo ambiente, avremo la possibilità di vedere spezzoni filmati sull'arte di Roland Petit.